Come ho deciso di scrivere questo libro? Ho deciso di scrivere questo libro principalmente perché non mi ero mai approcciato al genere fantasy. I primi due libri che ho scritto sono stati libri di romanzi di vita dove si raccontavano esperienze più contemporanee mentre ho scelto il fantasy appunto perché ti dà l'opportunità di spaziare, di crearti un mondo un po' come te lo immagini e arrivare e poter dire più cose possibili. Sicuramente scrivere questo libro mi ha fatto riflettere su alcune tematiche filosofiche, politiche che spero anche il lettore possa poi ritrovare appunto leggendo il romanzo e si possa porre le stesse domande che mi sono posto io e magari trovare delle risposte. Il libro è principalmente studiato per non dare un'impostazione ma lasciare al lettore la possibilità di decidere man mano da che parte collocarsi. È una passione a tutti gli effetti, una passione che spero di poter portare avanti. Sì, diventasse un lavoro sarebbe fantastico, intanto sono contento di continuare a pubblicare e spero di finire questo ciclo fantasy con una trilogia. La fortuna di questo libro può essere il fatto di appunto creare molte domande e spero dare anche qualche risposta.